Ciao ragazze, il video che vi faccio oggi è un video per mostrarvi il gel color della Special Nees della linea Revolution. Sono dei nuovi gel colorati che sono arrivati da poco e piano piano comunque la linea si sta integrando dei nuovi colori. Dal momento che purtroppo comprare online è sempre un po' difficile rispetto al comprare al dettaglio perché comunque i colori li possiamo esaminare e vedere sul momento. Vi faccio appunto questo video perché è sicuramente più facile magari attraverso il video vedere i colori rispetto comunque a vederli nel sito. Come promemoria vi posso comunque consigliare di andare a visitare il forum della Special Nees in Facebook perché comunque sono tutti riportati su comunque gli espositori e potete comunque anche vederli applicati sulle unghie perché comunque tante ragazze comunque postano i lavori fatti appunto con questi gel e quindi secondo me vi rende l'idea migliore. Innanzitutto vi vado a far vedere che il packaging è questo. Lo vedete bene qui. Il costo di questi gel è sui 4 euro. Vi dico sui perché comunque alcuni colori sono in offerta 3,50 euro. Ma diciamo che il prezzo relativo di vendita ufficiale è di 4 euro e sono da 5 grammi. Prima di andarvi a far vedere i colori stesi sugli espositori vi voglio comunque andare a far vedere quella che è la coprenza di questi prodotti e la densità così che vi possiate rendere conto che non sono gel liquidissimi che tendono a colare quindi comunque la lavorazione sicuramente ve l'agevolano perché comunque nella stesura vi aiutano e in più sono molto pigmentati quindi comunque ne bastano due stesure sottili anzi una stesura praticamente lieve e un'altra un pochino più consistente e basta. Di alcuni colori addirittura con una stesura unica avete perfettamente la coprenza. Vi faccio vedere questo perché vi dico la verità di tutte le linee è uno dei miei colori preferiti se siete amanti del blu questo qui è un blu veramente bello soprattutto adesso che la stagione è invernale un blu così secondo me non fatevelo mancare nei vostri colori preferiti. Cominciamo andare a vedere un po' i colori. Questo che vi mostro adesso si chiama purple love è un viola. Poi abbiamo questo che invece si chiama cupcake. Poi abbiamo questo colore che è molto bello fine. Si chiama elegans perché amanti insomma dei colori un po' delicati. Qui invece abbiamo sweet dream un bel rosa carico. Qui invece princess in pink un rosa comunque anche lui bello carico ma non come quello di prima. Poi qui abbiamo rubix. Rubix è un colore un po' particolare come quelli che vi dicevo prima infatti se vedete passandoci la mano dietro dovesse capire quello che voglio farvi intendere. Questo gel è un gel effetto vetro e la sua particolarità è che se steso su un costruttore lattiginoso o comunque un cover avete l'effetto di colore pieno che è un rosso tipo rubino. Se invece lo stendiamo in una stensione di allungamento in trasparenza magari facendo una french viene un effetto bellissimo perché avete appunto un effetto un effetto vetro. Vedete che rimane questa trasparenza. Quindi comunque è un gel di cui potete fare un doppio uso. Sul gemello che questo appunto è un colore tipo rosso rubino abbiamo invece elegans che è questo che è un colore invece tipo magenta e se vedete ha la stessa particolarità. Di questi due gel ne potete fare come vi dicevo prima un doppio uso perché appunto hanno questa particolarità. Poi andiamo avanti abbiamo red violet che è un viola però comunque scuro tipo un prugna d'ortidensi che comunque è un altro viola però più chiaro. Poi abbiamo dark ocean che è un bel blu. Per gusti un po' più particolari abbiamo questo verde oliva che si chiama olive. per chi ama i colori tenui e fini abbiamo style pink. Lassuria Un rosso veramente bello che vi consiglio se siete amanti del rosso che si chiama devil touch. Dark red per chi ama i rossi un pochino più scuri. Vanity che io lo chiamo rosso geranio mi fa venire in mente un po' il color geranio. Tipico quello un po' chiarettino. E gli ultimi arrivati proprio in questi giorni che sono questi cinque che vi vado a mostrare. Uno è elegance che vi ho fatto vedere prima che è quello appunto ad effetto vetro. Poi abbiamo il mocha dark che è proprio un color caffè. Infatti il nome non viene per niente quindi un marrone bello scuro. Poi abbiamo il grey che ha un grigio tortoro. Poi abbiamo il senope. Che da quello che vedo il video lo rende un pochino più scurettino è un po' più chiaro è proprio un color senope. E poi abbiamo questo che è tra i miei preferiti che è appunto Lady Night. Che è quello che vi ho fatto vedere poi all'inizio del video per farvi vedere la densità di questi colori. Se siete amanti del blu questo ve lo consiglio perché è veramente bellissimo. Ecco ragazzi, questo è il momento sono i colori di special news che potete trovare. Vi do anche un consiglio. Controllate spesso il sito perché ultimamente vengono fatte delle promozioni a lunedì. Dove ogni 50 euro di spesa effettiva viene regalato un gel color. E comunque altre promozioni, altri gel che potete trovare magari in sconto. Vi consiglio insomma di tenere un attimo monitorato il sito se avete intenzione di provare questi gel. O se siete già clienti e affezionate. Al momento questi sono i gel della linea Revolution. Al momento che io sto facendo questo video. Poi comunque non so se ce ne saranno altri in arrivo. Cosa comunque probabile. E per adesso vi mando un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte.